Le mareggiate che nel corso dell'inverno si sono abbattute sul litorale di Francavilla al mare hanno provocato danni principalmente nella zona nord con stabilimenti lesionati e metri di spiaggia erosi dalla forza del mare. Per provare a porre rimedio i bagnatori della zona di Pretaro hanno chiesto ed ottenuto al comune la possibilità di posare delle scogliere radenti a difesa della costa, collocate in acqua una decina di metri dalla battigia. Ma il posizionamento di queste barriere ha provocato un contenzioso tra i tecnici e i bagnatori. Il nodo della questione sembra essere l'attuale posizionamento in acqua delle rocce che ha creato una seconda linea di scogliere oltre a quella già presente. Il comune infatti può autorizzare una simile operazione in via temporanea rimuovendo gli scogli prima della stagione estiva facendo però posare i massi sulla sabbia e non in acqua già che l'ente locale non ha alcuna potestà decisionale sul mare che invece spetta la regione che pare però non abbia autorizzato l'intervento. I bagnatori invece sostengono che tutto si è svolto in piena regola da qui la decisione di far dirimere la questione all'attare il Tribunale Amministrativo Regionale. Nel frattempo è pronto un finanziamento della regione da 950 mila euro proprio per i problemi della costa nord di Francavilla. In seguito a un sopralluogo abbiamo constatato che in verità erano state messe un po' più in là e quindi leggermente al di dentro dell'acqua. Ovviamente gli uffici tecnici hanno rilevato questa cosa hanno immediatamente fatto un provvedimento col quale si intima a questi balneatori di rimuovere queste scogliere anche in virtù del fatto che sta per iniziare la stagione balneare. Questi balneatori si sono opposti e quindi ci daranno un'udienza al Tarno nel quale si discuterà sulla validità o meno del nostro provvedimento di rimozione. Non mi va di dare troppo addosso a loro perché sono in difficoltà. Noi abbiamo 7 km di costa perfettamente balneabile con delle spiagge belle e attrezzate. Questa è una piccola zona a confine nord con Pescara che paga purtroppo l'erosione che si è sviluppata proprio grazie all'ultimo intervento del scogliere fatto dal comune di Pescara, quindi dal pennello del progetto Ricama.